incredibile. Allora, di cosa vi voglio parlare? Vi voglio parlare di una cosa veloce, ma molto interessante. In sostanza, queste company qua, che sono parecchie, di quel mondo lì, cioè del mondo del digitale, online, bla bla bla, e a un certo punto un'associazione ha scoperto una cosa, la Fair Tax Foundation. Cos'è che ha scoperto? Ha scoperto che praticamente, anzi la faccio vedere da qua, che queste aziende, io l'avevo già accennato con un servizio tempo fa, hanno pagato negli ultimi dieci anni, anni, 149 miliardi in meno di tasse. Adesso nel G7, che arriva tra poco, che si farà in Cornovaglia tra, credo una settimana, scusate l'ignoranza, c'è un piano già pronto per fargli pagare almeno il 15% nei paesi, come dire, in quelli in cui operano. E la questione è seria, perché, cosa succede? Che, come funziona, l'avevo già raccontato, in poche parole, voi pensate a un'azienda americana, che vende, per esempio, prendo una cosa a caso, online delle cose, ok? Benissimo. Che quindi fa concorrenza a un'azienda italiana, o un negozio, ok? E' diretto concorrente, cioè, è come dire, a un negozio gli aprono un negozio a fianco, che, essendo più potente, che ha piani internazionali, cosa fa? Ha molti più soldi, ovviamente, del negozio che c'era prima, perché è un americano, giustamente, arriva a fare, e che cosa fa? Gli fa una concorrenza spietata, e diventa, ovviamente, non avendo problemi di resi, di copia, perché chi se ne frega, io mi ritrovo a volte a rispedire ad alcune aziende, tra cui quella, che a rispedire della merce che arriva, la apro, la uso, già la uso, no, nel senso, la provo, poi faccio, ah, non funziona, aspetta un attimo, non funziona, non mi trovo bene, clicco, dico la verità, dico, non mi trovo bene, non mi piaceva, la rimetto dentro una borsa, senza la scatola, perché l'ho persa, e loro te la rimborso, cioè, è roba in enarra, e non discutono mai, ed è pazzesco, quindi voglio dire, come può un negozio competere con questa roba qua, già è un guaio, ma poi succede di più, quindi già non c'è un supporto nazionale per quel mondo lì, ma poi c'è di più, cioè, per di più, il nostro negozietto deve pagare il 50% di tasso, perché il poverino alla fine finisce così, e poi i contributi, se è un dipendere, era un bordello, e loro zero, perché? Perché utilizzano ovviamente dei sistemi di ottimizzazione fiscale, di elusione per essere precisi, perché non si tratta di evasione, l'evasione è illegale, l'illusione no, perché ci sono sistemi, perché il mondo non è ancora pronto, il mondo non è, aspetta che voglio rimetterla slide, che mi piace di più, bella scritta grande, il mondo non è ancora pronto per questo mischione che si chiama globalizzazione digitale, è pronto, capite che non ha senso, ci sono delle cose che non hanno più confini, non hanno più frontiera, fammi partire un po' con le telecamere qua, che se no siamo fermi, non c'è frontiera, però all'interno di tassazione no, ognuno ragiona in modo diverso, a livello di leggi ognuno ragiona in modo diverso, ma come? E questo crea ovviamente, si arriva a questo, allora questo qui a mio parere è uno dei temi più importanti che ci siano in questo momento, perché hanno a che fare con l'economia, l'economia ha a che fare con il, come dire, lo stare bene, con il benessere delle persone, non se ne parla molto, sapete che quando si dice non se ne parla, di solito sono fake news, però questa volta è vero, cioè io ho cercato in italiano questa notizia oggi e non c'è, cioè non l'ha trovata, vi giuro, nel news, nel google news non l'ho trovata, non l'ho trovata, eppure è di stamattina, non l'ho trovata, cioè non pare sia importante, ma semplicemente perché c'è un po', non sono i giornali che nascondono nulla, è un misto tra un po' di cecità, cioè non ci si rende conto tutti noi di quanto sia importante questo tema e quindi di conseguenza ha anche la stampa che giustamente deve vendere e quindi cerca di dire cose che possono interessare le persone, ad esempio come si è vestita Chiara Ferragni ieri, queste cose, Fedez, il nuovo smalto, insomma queste robe qua, però il fatto che il competitor dei nostri negozi non paghino le tasse, sono dettagli, ecco è questa roba qua, secondo un'altra cosa che io ve la dico con estrema franchezza, è difficile trovare uno come me che vi dica queste cose qua, perché si vive con difficoltà in questo periodo un po' tutti, è anche dei big, cioè un big ti paga per un convegno, un big ti paga per una pubblicità, un big ti paga per molte cose e siccome io sono un po' matterello non me ne frega assolutamente niente, nel bene e nel male e quindi continuo a fare la mia vita normale senza essere mega super, avere di più e rinuncerò alla simpatia di alcuni big, perché dico queste cose, I'm sorry, non si fa successo così, ma fa niente, ok? Però bisogna sapere, almeno voi lo sapete, allora vi chiedo una, anche buona cortesia, cioè condividetela questa roba, se pensate sia importante, almeno fate vedere che roba a cui teniamo, perché è veramente importante questo, questo non significa che io sia antitecnologico, è tutto giusto quello che sta succedendo e purtroppo da altri punti di vista effettivamente c'è una grande rivoluzione in corso e il negozietto deve ripensare, deve rispecializzarsi, deve avere quella cosa che ti dà subito, ma attenzione, qui a Londra è già successo che hanno già integrato, stanno integrando il Prime Now, cioè quello che consegna in un'ora all'interno della normale consegna di Amazon e non c'è solo Amazon, ce ne sono altri, ci sono i big dei motori di ricerca dei dati, ci sono i big dei social network, ci sono i big che tutti quanti in qualche modo portano via una fettina di reddito nazionale, non è solo una questione ovviamente italiana, è una questione internazionale, perché ci sarà sicuramente anche un'azienda di qua che fa più fatica o che porta via qualcosa agli Stati Uniti, non è solo una questione americana, non è che sono cattivi gli americani, è proprio un problema grosso e serio, quindi fate condividere, tac, tac, tac!